E' già iniziata la lunga rincorsa dell'Aci Sant'Antonio, il club del presidente Zingale, ovviamente per storia e blasone, non può accontentarsi della promozione appena conquistata ma deve ambire subito a traguardi importanti. La permanenza in biancazzurro dell'allenatore Lucio Tosto e del direttore sportivo Salvo Castorina è garanzia di ambizioni. Adesso però la società ha il dovere di mettere a disposizione della coppia tecnica un budget importante perché servono almeno tre o quattro pedine per fare dell'attuale organico che ha vinto i playoff qualche settimana fa in prima una squadra in grado di affrontare anche il campionato di promozione per un torneo di vertice.